A bordo della navigatoria del Sien che Raffaele Di Gennaro, come ti hanno accolto i tifosi? Subito bene, infatti io ho partecipato a tanti vivi l'Inter, a tanti incontri con gli Inter Club, serate, cene e quindi ho subito accolto l'occasione e appena mi hanno proposto questa crociera non ci ho pensato due volte e sono venuto. Tu hai anche un carattere molto bello, ti piace stare in compagnia e i tifosi si accorgono, si rendono conto che ti piace stare in loro compagnia naturalmente e per questo hai anche un ruolo attivo in questa crociera ossia di stare con i tifosi ma anche di giocare insieme a loro per portare avanti questo gioco che durerà per l'intero percorso del viaggio. Speriamo di vincere il gioco prima di tutto perché si vuole sempre vincere anche i giochetti e poi sì, forse hai ragione te, il mio carattere così capisce il tifoso, il mio carattere e mi piace stare con loro e quindi si accorgono, poi a me piace moltissimo e quindi ci troviamo. La tua passione poi non ti fa allontanare dal campo, infatti ti abbiamo visto anche andare a vedere, a controllare i ragazzi delle scuole calci, i bambini, quanto è importante anche questa attività secondo te sulla crociera? È importantissimo, poi è vacanza, loro hanno finito scuola, chi ha finito il lavoro come gli adulti, quindi è un momento di rilassamento e quindi è bello perché sei tranquillo, sei subito pronto per iniziare una grande vacanza che è bellissima questa crociera. Parliamo appunto anche della crociera, non so se è la tua prima volta, passiamo proprio alle cose più pratiche, logistiche. La nave è grossa, ci ho messo ieri e ancora tutto oggi a capire come, dov'è il ponte, dov'è il piano, dove ci sono i bar, capito? E quindi però è bellissimo e poi è la prima crociera, quindi mi trovavo un po' spaisato i primi giorni, però è bello anche scoprire certe cose. Grazie mille. Grazie a voi e grazie all'Inter che mi ha permesso questa crociera. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di... Grazie a tutti.